Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più il deserto, ma popolato dei figli tuoi, perciò, sovrana regina, a te mi affida finché guidi i miei passi. Nel Regno del Povere Divino, stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà, che così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa Volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel donato della nostra morte. Amén. Padre, tu che sei amore Sia santificato il tuo volere Venga il tuo regno La tua volontà Come in cielo Sia gloria Sia gloria Sia gloria Nei nostri cuori in terra Donaci tre pani della vita Nell'infinito eterno immenso Tuo volere Insegnaci il tuo Perdono Perdono Per essere perdono Per essere perdono Ai fratelli Donaci tre pani della vita Nell'infinito eterno immenso Tuo volere Tuo volere Insegnaci il tuo Amore Per liberarci dal Volere umano Padre Padre Tu che sei l'amore Tu che sei l'amore Tu che sei il perdono Tu che sei la gioia Padre Padre Tu che sei la vita vera Padre Padre Tu sei la mia volontà Dal libro di cielo Volume 12 15 novembre 1918 Stavo pensando Che sarebbe meglio Pensare a santificare se stessa Oppure occuparsi Solo presso Gesù Di ripararlo Ed a qualunque costo Cercare insieme con Gesù La salvezza delle anime Ed il benedetto Gesù Mi ha detto Figlia mia Chi pensa solo a ripararmi E a salvare le anime Vive a spese Della mia santità Vedendo io che l'anima Non vuole altro che ripararmi Facendo eco al mio palpito infuocato Mi chiede anime Io vedo in lei Le caratteristiche della mia umanità E preso da follia Verso di essa Lo fa vivere La faccio vivere A spese della mia santità Dei miei desideri Del mio amore A spese della mia fortezza Del mio sangue Del mio sangue Delle mie piaghe Eccetera Posso dire che metto a sua disposizione La mia santità Sapendo che non vuole altro Che ciò che voglio io Invece Chi pensa a santificare solo se stessa Vive a spese Della sua santità Della sua forza Del suo amore O come crescerà Non chieda anime Che catena di delitti In questi giorni Che trionfo Satanico La prosperità Dell'empio È il segno più cattivo E sono spinte Con cui la fede Si parte Dalle loro nazioni E gli uomini Restano come inceppati Dentro un'oscura prigione Invece Le umiliazioni All'empio Sono tante fessure Per cui entra la luce Che facendolo Rientrare in se stesso Gli porta la fede A lui E dalle stesse nazioni Sicché gli farà più bene Un'umiliazione Che qualunque vittoria Conquista Che punti critici E dolorosi Attraverseranno L'inferno e i malvaggi Si rodono di rabbia Per incominciare Le loro tresche malvagità Poveri miei figli Povera mia chiesa 29 novembre 1918 Trovandomi nel solito Il mio stato Stavo pregando Il mio sempre amabile Gesù Che oggi facesse La mia volontà Come mi aveva promesso L'altra volta E quando l'anima Fa sempre la sua volontà Qualche volta Permette che lui Faccia la volontà Dell'anima Sicché gli dicevo Oggi proprio Dovete fare la mia volontà E Gesù venendo Mi ha detto Figlia mia Non sai tu Che l'anima Uscendo dalla mia volontà E per lei Come una giornata Senza sole Senza calore Senza la vita Dell'attitudine divina In lei Ed io Amore mio Il cielo mi guardi Di fare ciò Ma è piuttosto morire Che uscire dalla tua volontà Perciò metti La tua volontà In me E poi dimmi Che è volontà mia Che oggi Io faccio la tua volontà E Gesù Ah cattivella Va bene Ti contento Ti terrò con me Finché vorrò E poi io stesso Ti lascerò libera O come ne sono rimasta contenta Che senza fare la mia volontà Gesù Il mio amabile Gesù Si è trattenuto con me Pareva che intingeva La punta del suo dito Nel suo preziosissimo sangue E mi passava la fronte Gli occhi La bocca Il cuore E poi mi ha basata Io nel vederlo così affettuoso Dolce Ho cercato di succhiare Dalla sua bocca Le amarezze Che conteneva il suo cuore Come facevo prima Ma Gesù subito Si è ritirato un poco lontano E mi faceva vedere Un involto Che teneva in mano Pieno di altri flageli E mi ha detto Vedi quanti altri flageli Ci sono ad avversare Sulla terra Perciò non verso in te I nemici hanno preparato Tutti i piani interni Per fare le evoluzioni Ora non resta altro Che finire di preparare I piani esterni Ah figlia mia Come mi duele il cuore Non ho con chi sfogare Il mio dolore Voglio sfogarlo con te Tu avrai pazienza Nel sentirmi parlare Spesso spesso di cose tristi So che tu ne soffri Ma è l'amore Che a ciò mi spinge L'amore vuol far sapere Le sue pene alla persona amata Quasi non saprei stare Se non venissi A sfogarmi con te Io mi sentivo male Nel vedere Gesù Così amareggiato Mi sentivo le sue pene Nel mio cuore E Gesù per sollevarmi Mi ha dato a bere Pochi sorsi Di latte dolcissimo E poi a soggiunto Io mi ritiro E ti lascio libera Bene Iniziamo la meditazione Ecco da Un punto fondamentale Dell'ultimo brano Che abbiamo letto E Che deve essere sempre Oggetto della nostra attenzione Oltre che della nostra meditazione Uscendo dalla mia volontà Per l'anima è come una giornata Senza sole Senza calore E senza la vita Ecco Tutta la nostra Attenzione Dovrebbe Ecco Convergere istante dopo istante Momento dopo momento Scelta dopo scelta Ecco in questa Prospettiva Ecco Sto uscendo dalla divina volontà O sto rimanendo nella divina volontà In quello che sto facendo In quello che sto Dicendo In quello che sto pensando In quello che sto progettando In quello che sto operando In quello che sto guardando In quello che sto ascoltando Ecco Oppure no E' un'attenzione che deve essere Costantemente presente Dentro di noi Perché poi una volta che si esce Dalla divina volontà Ci si mette appunto all'ombra Al buio Fuori della vita E' come in tutte le cose Poi c'è sempre una fatica Ecco Da fare Per rientrarci E' come quando Si commette Un peccato O una mancanza No Molte persone pensano Un po' troppo frettolosamente Tanto Dio mi perdona E finisce lì Che Dio perdona Che ha pentito E' certamente verissimo Però purtroppo non finisce lì Perché un peccato Quindi un'uscita grave Dalla divina volontà Faccio sempre questo esempio E' come se uno Avesse deviato la strada Dal retto cammino A un certo punto Dice che sto fa E chiede perdono Per aver deviato E' colui insomma Che è Come dire Il responsabile del viaggio Quindi quello che vuole Che arriviamo a un certo obiettivo Per il nostro bene Chiaramente dice Va bene Ti perdono E però Io adesso mi sono trovato Che sono uscito De strada Insomma Quindi devo tornare indietro Come se uno guidasse una macchina E riprendere La retta via Ho perso tempo E comunque dovrò fare Un percorso A ritroso Quindi ho perso tempo E ho anche Come dire Da fare un lavoro Di ripristino Mi ci devo rimettere Sulla retta via Penso che a tutti sia capitato Una cosa di questo genere E' terribile Quando uno purtroppo Sbaglia strada In autostrada Perché se uno salta Un'uscita Che Non se ne accorge Insomma Oppure Questi strumenti moderni Scientifici E elettronici Fanno le bizze Non ci fanno capire Che dobbiamo uscire Da qualche parte Uno salta Un'uscita Prima che trova un'altra Trova 20 km dopo Dopo vede fare 20 km Più 20 km Da torno indietro Insomma Quindi diventano 40 E uno ha perso 20 minuti Quei 20 minuti Sono 20 minuti persi Adesso certamente Tutti quanti Questi principi Come tutti i principi Della vita spirituale Noi dobbiamo viverli Con calma E senza farci prendere Dall'ansia O dall'agitazione Ma nella consapevolezza Non è la stessa cosa Fare percorso netto Oppure fare un percorso Che ho fatto 200 sbagli Di strada E poi sono tornato indietro A rimettermi a posto Certo in qualche modo Certamente arrivo Ma arrivo molto più nervoso Arrivo molto più malconce Arrivo soprattutto Molto molto più tardi Ecco Questo In un esempio umano Ecco Però Questi discorsi Valgono esattamente Mutatis mutandis Nella vita interiore E per questo Per esempio Che il sacramento Della penitenza Come sappiamo Termina Con quella che si chiama Tecnicamente La soddisfazione sacramentale Ossia Comunemente parlando Proprio quella che si chiama La penitenza Che anche se oggi Ha un valore Nell'amministrazione Del sacramento Insomma Poco più che simbolico A differenza Insomma Di discipline più severe Che la Chiesa ha conosciuto Nei secoli precedenti Però anche Nel suo aspetto simbolico Fosse solo fare Un padre nostro Nave Maria Ecco Che Una bella confessione Certamente Piccole Va bene Insomma No Però ti ricorda Guarda che Siamo nel mese di maggio C'era un po' Quella cosa Che La Madonna Disse a suor Lucina La prima apparizione Dice Giacinta viene in cielo Sì Francesco ci viene Sì Ma deve recitare Molti rosari Era un bambino Non è che con rosari Ti compri il cielo No D'accordo Perché il cielo È un dono di Dio Ma con i molti rosari Vuol dire Che c'erano già Delle macchioline Nella sua anima Che andavano riparate Con delle opere penitenziali La preghiera È una di esse Quindi Di questo Dobbiamo essere consapevoli Quindi certamente Noi non dobbiamo fare un dramma Se siamo usciti dalla divina volontà O nemmeno un dramma Se siamo caduti No Perché una volta Quando è caduto Dicono i maestri di spirito Che i demoni Girano in coppia Il primo incaricato Di farti cadere E il secondo In caricato Di non farti rialzare Quindi una volta Quando è caduto Sti discorsi Se non ci deve pensare Deve sbrigarsi A rialzarsi Cercare di mettersi In carreggiato Il primo possibile Ecco Però Ovviamente Prima di cadere È sempre bene pensare Che Sarebbe preferibile Evitare la caduta Ecco Il Nuovo Testamento Dice Queste stesse Parole Credo che sia una lettera Di San Pietro Apostolo Con la misericordia E la magnanimità Del Signore Consideratela Come salvezza Cioè Non è mai corretto dire Ah beh Se faccio una caduta O no Che ci fa Tanto poi Il Signore Mi perdona Questo Non è un buon ragionamento Però Una volta caduti Devo dire Sbrigiamoci A rialzarci Perché certamente Il Signore Mi vuole Far rialzare E mi tenderà la mano Per perdonarmi È un discorso Che bisogna fare Sempre dopo Mai prima Non deve mai diventare Un incentivo Per Per essere leggeri Insomma Per Autorizzarci Insomma Darci una sorta Di autorizzazione A fare sciocchezze E che appunto Perché le sciocchezze Portano sempre con sé Delle conseguenze E queste conseguenze Poi stanno in carico Nostro Ecco Bene Torniamo al primo brano Che abbiamo letto Che è uno dei punti cardine Nella Vita Nella Divina Volontà Quindi L'occupazione Di Gesù Per Ripararlo Ecco Abbiamo visto Appena adesso Che una caduta Come dire Proprio da un punto di vista Oggettivo Ecco Impone una riparazione Necessaria Aggiustare una cosa Che abbiamo rotto Noi Ecco Ma ogni peccato Tra l'altro Produce un dolore Grandissimo Nel cuore di Gesù E ogni atto Di non amore Ogni amore respinto Ecco Che Richiede una riparazione Tra poco Finirà il mese di maggio Comincerà il mese di giugno Varemo in modo Anche aiutati Dalla Vita della Chiesa Che ha dedicato Il mese di giugno Al Sacro Cuore E culminerà Proprio il mese di giugno Proprio la fine di giugno Dove sia il 28 di giugno Con la festa Del Sacro Cuore di Gesù Saremo aiutati A riflettere un pochino Su questo aspetto Fondamentale Che è stato appunto Oggetto di una rivelazione privata Ma diciamo Ultrariconosciuta Dalla Chiesa Tanto è vero Che abbiamo la festa Del Sacro Cuore No? E la pratica Dei primi nove verdi del mese Dove c'è appunto La confessione E la comunione riparatrice Questo tema È molto Preso E Diciamo così Di mira In senso buono Dagli iscritti Sulla Divina Volontà Nel senso che Gesù Lo evidenza in continuazione Perché Riparare Gesù Significa amarlo Anche per chi non lo ama Quindi offrirgli Tutto quell'amore Quella devozione Quella tenerezza Quella attenzione Che molte anime Non gli offrono E questo è uno Dei compiti più nobili Che possiamo svolgere Due Oltre che a ripararlo Gesù dice anche Salvare le anime Queste erano tra l'altro Due delle tre intenzioni Come abbiamo visto tante volte Che hanno caratterizzato La vita italiana di Gesù La gloria del padre La salvezza delle anime E la riparazione Dei peccati Evidentemente Così come Ovviamente Tutta la vita di Gesù È stata un'interrotta Lavoro Un interrotto lavoro Per l'instaurazione Del regno Della divina volontà Nelle anime Sappiamo che ha rifatto Tutti i nostri atti Eccetera Quindi Anche nella vita interiore Questo Decentramento Della nostra persona Quindi Non sto pensando Tanto a Come dice A santificare me stesso Perché così Si vive la spesa Della propria santità E si cresce i miseri E si sente il peso Delle miserie E si vive in lotta Continua Con se stessi Perché purtroppo I nemici della nostra salvezza Ce li abbiamo dentro di noi Che sono le nostre passioni Che sono le nostre Emozioni non mortificate Che sono i nostri vizi Ecco Invece Chi si occupa di Gesù Come dire Perde Diciamo così Lo sguardo Verso se stesso Dice Gesù Il suo cammino Sarà placido Scorrerà placido Virà in pace con sé E con me Io le vigilerò I pensieri Ciascuna fibra Del suo cuore E sarò geloso Che neppure una fibra Non chieda anime E il suo essere Non stia In continuo Versarsi in me Per ripararli Bellissime queste cose No? Bellissime queste Possibilità di vita Quindi qui Ci abbiamo Praticamente Una Una considerazione Ed un invito Quindi a Vedere No? Dov'è il centro Della nostra Attenzione spirituale Cioè viviamo in funzione Di Gesù Di farlo contento Di ripararlo Di consolarlo Di salvare qualche anima O viviamo in funzione Come dire Un po' Spiritualmente egoistica Ecco Preoccupati principalmente Della nostra Santificazione Per carità Rispetto al Nulla E all'innifferentismo E al disastro Che c'è in giro Molto meglio Pensare alla Santificazione Propri Ecco Però Qui certamente Gesù Ci eleva Verso Maggiori Perfezioni Il secondo Capitolo Che abbiamo letto Contiene un principio Generale Molto importante C'è la solita E come dire Tematica Del dilagare Del peccato E Gesù dice Una cosa Brutta E vera Però La prosperità Dell'empio È il segno Più cattivo Ci sono dei salmi Bellissimi Che sono dei salmi Di lamentazione Che dicono al Signore Ma come mai Che l'empio Prospera Perché la prosperità Dell'empio Significa Il calo O la perdita Della fede Ecco E anche Tutti quanti I salmi Così comprendiamo Nei salmi Viene invocata Con forza A volte Dal salmista Che gli empi Siano umiliati Che siano In qualche modo Atterrati Ma non Nel senso di Quasi volersi Vendicare Diceva Questi stanno facendo Adesso Ma è ora Che la scontano È ora che la pagano Devono essere mortificati Devono essere umiliati No Ma nel senso che Gesù Spiega qui Le umiliazioni All'empio Sono tante fessure Per cui entra la luce Che facendolo Rientrare in se stesso Gli porta la fede E questo vale anche per noi Le umiliazioni Argomento fondamentale Della vita spirituale E credo che Non serve essere grandi profeti Insomma Non è molto difficile Comprendere Che a nessuno Credo Piaccia Essere umiliato Essere messo con la bocca Nella polvere Essere atterrato No Trovarsi In situazioni Permesse Da Dio O provocate Diciamo così Da Dio Per il nostro bene Che scottano Vi possono fare Molto molto male Ecco Noi dobbiamo imparare Ad abbracciare Le umiliazioni Che possono essere Quelle derivanti Delle nostre misere Delle nostre debolezze Da ricadere negli stessi peccati Da non Sapersi vincere Da commettere Errori A volte Errori grossi Quanto una casa A volte Errori commessi In perfetta buona fede Addirittura Delle volte Questa è una delle cose Più brutte Che possa capitare L'errore derivante Dice ma Come io volevo fare bene Al prossimo Pensavo di fargli un favore Invece ho fatto un dispetto Pensavo che questa gloria Fosse a gloria di Dio Pensavo che questa azione Fosse a gloria di Dio Invece Dio Non la gradisce per niente Anzi Magari È esattamente il contrario No Sono Potenzialmente pure Le umiliazioni Che ci vengono Dal prossimo Le umiliazioni Sul lavoro Le umiliazioni In famiglia I nostri Farnimenti Uff Qui ci sta Sarebbe Ecco La nostra natura Evidentemente Rifugge Come dalla peste bubonica Qualunque umiliazione E invece Dovrebo abbracciarle Con tutto l'amore Possibile Immaginabile Perché ognuna di quelle È una fessura Per cui entra La luce E E attraverso la luce Entra la fede E attraverso la luce Entra soprattutto Il rientro in se stessi Perché la Matura La maturità Ecco Nella vita interiore Nella vita cristiana Nella vita di santità Si ha Quando ci si ritiene Veramente un nulla Ma questo non Come Come dicono Una frase fatta Ecco La classica frase Da santo No Io sono un nulla Più il peccato Ma tu non ci credi Per niente Su questa cosa qui Quindi lo dici Perché Si deve dire Capito Come quelli che dicono Ah sì sì Io ho tanti difetti Poi Me ne dice almeno uno Capito E quando vanno a confessarsi O dicono che non c'hanno i peccati Oppure non sanno che cosa dire No Però Se c'è tanti difetti Me ne dovrà dire almeno uno No Quindi Queste sono Parodie Sono macchiette Non c'hanno niente a che fare Con Con la vera umiltà La vera umiltà Purtroppo si conosce Fin troppo bene Se dovesse cominciare a parlare Di limiti e difetti Sarebbe molto molto loquace Mentre sarebbe muta Sui eventuali pregi propri Perché anche Qualora oggettivamente Dovesse vedere qualcosa di buono Ecco L'umile non ha dubbi Che quel qualcosa di buono Non è farina Del suo sacco Ma è grazia Di Dio E se Dio ci toglie la mano Dalla Dalla testa Qualche volta Anche con i migliori Lo fa Perché c'è bisogno di una Rinfrescatina alla memoria No Ricordati chi sei Ogni tanto Ecco Dopo che ti sei ricordato Ritorna alla grazia E le cose cominciano ad andare Un pochino meglio Ma ogni tanto ci fa bene Ecco Riandare a A A A spolverare Il libro Ecco Della nostra Pochezza Ecco Del nostro nulla Ultimissima Considerazione Sono Le ultime cose Che Gesù dice a Luisa Nel terzo Capitoletto Quindi Il fatto che Egli gradisca assai Sfogarsi Sfogare il dolore Con le anime Amanti Qui vediamo anche Delle bellissime cose Insomma Che Luisa vive La punta del dito Intrisa nel sangue Gli passava la fronte Gli occhi La bocca Il cuore Tanta roba Questa qui Il bacio di Gesù Di cui tante volte Luisa parla Quelle stille di latte Che gli fa gustare Ecco Latte dolcissime Questo A me piace pensare Che Gesù ci abbia qualche riserva Dove possa attingere Dal Dal latte materno Di cui si è nutrito Insomma Quando era Infante Questa è una mia Come dire Un mio pensiero Totalmente personale Devoto E totalmente opinabile La cosa importante Però L'anima Vuol far sapere Le sue pene Alla persona amata E non saprei stare Se non venissi A sfogarmi con te Allora Pensiamo Che a volte Quando sostiamo In preghiera Davanti a Gesù E caristia Quando facciamo Le sue pene Quando Che è una cosa Molto importante Molto più importante Di quanto pensiamo E molto bella Possiamo Sperare Possiamo Sognare Possiamo In qualche modo Forse aspettarci Speriamo Che Gesù Sia da noi consolato E quindi Che anche se In maniera Non Non percepibile Perché non ci parla Non ci dice Con voce sensibile Insomma Le sue sofferenze Potremmo Potremmo però Ecco Avergli Causato Una consolazione Quindi una possibilità Di sfogo Quanto meno Un vedere Dice Ah beh Questo almeno Mi vuole bene Questo almeno Sta alla mia presenza Questo almeno Mi ama Questo almeno Ci prova A ripararmi Sono cose belle Per cui voglia Il Signore Ci concede Il Signore La grazia Di poterle vivere Ovviamente In maniera ordinaria Se abbiamo Se abbiamo la grazia Di viverle Noi le viviamo Ringraziandone Il Signore Nella non piena Consapevolezza Ma non fa niente No Ecco Tanto se Quando andremo Dall'altra parte Gesù ci dirà Grazie per L'amore Per la riparazione Per Per lo sfogo Che mi hai concesso In quella circostanza Anche se tu Non lo sapevi Beh Questo sarebbe comunque Penso una cosa Bellissima E assai gradita Per tutte le anime Che sinceramente Amano il Signore Grazie a tutti Bene Santo Vergine Maria Prendici sempre per mano E aiutaci a non uscire Mai Dalla Divina Volontà Ecco Che è un po' Il punto da cui Questa meditazione È partita Ecco E Intorno a cui Questa meditazione Comunque è girata Perché anche gli altri punti Di Di meditazione Sono stati Come dire Come dei Satelli Intorno a questo Centro Aiutaci Ecco Facci discernere Sempre bene Con attenzione E dacci anche La grazia Di togliere Dalla nostra vita Tutto ciò Che in comunque modo Ci possa distogliere O allontanare O allontanare Da divini voleri Aiutaci perché in questo Abbiamo bisogno Di un buon discernimento E per questo Abbiamo bisogno Più che mai Della tua aiuto Della tua intercessione Della tua presenza E della tua azione Nella Divina Volontà In nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Amen Ti benedico per aiutarti Ti benedico per difenderti Ti benedico per perdonarti Ti benedico per liberarti Da ogni male Ti benedico per consolarti Ti benedico per farti santo Ti benedico dunque Nella Divina Volontà In nome del Padre Del Figlio e del Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria